Come nasce l'idea di questi musei? Nasce quando ho avuto una certa esperienza con la consapevolezza che la montagna è una cosa più culturale che sportiva. La relazione natura umana, natura grande delle montagne, questa tensione ha fatto capire meglio la natura in generale, le montagne e poi anche il fatto che non siamo noi la prima generazione che va in montagna. C'è una grande storia dietro, c'è filosofia dietro e portando queste basi culturali in montagna, con le montagne, con la natura attorno, con la natura selvaggia attorno, c'è anche per il cliente, per chi viene a visitare, a vivere le Dolomiti, una possibilità di capire più profondamente che cosa significa la montagna per noi umani. Il museo è un luogo di conservazione, mentre tutto intorno a noi il clima cambia, la montagna cambia. Come sarà, secondo lei, la montagna fra vent'anni nel futuro? Fra vent'anni sarà cambiata pochettino ancora, è già cambiata da 50 anni. Io lo vedo passando specialmente per le valate dolomitiche, perché conosco le pareti, ci sono tante pareti dalle quali sono caduti pezzi enormi per la mancanza del permafrost. Se le montagne soffrono sotto la razza umana, per il fatto che abbiamo le grandi fabbriche, abbiamo le grandi città con milioni di abitanti, abbiamo l'uomo che è mobile, con la macchina, col treno, sempre si brucia qualche cosa, energia fossile. Per 150 anni abbiamo avuto l'energia fossile a poco prezzo, a basso prezzo, e così abbiamo usato tanta, abbiamo riscaldato la terra, caldo globale, che fa parte del cambiamento climatico, parte solo. e noi dobbiamo capire che siamo noi che cambiamo, non distruggiamo, cambiamo il mondo, però non per il nostro bene. Adesso lentamente lo sappiamo, però questo non viene da tre alpinisti che vanno a camminare o scalare, viene dalle grandi centri abitati. Le montagne e il rispetto. Abbiamo, diciamo, stiamo prendendo un po' troppo confidenza con l'ambiente montano, stiamo perdendo il rispetto per questi luoghi? Sì, è vero, la gente viene con la macchina, vede attraverso la finestrina e vede cartoline postali e non una montagna. In realtà, se noi non abbiamo la possibilità di misurare la montagna con il nostro passo, tutte le altre misure non valgono. Significa con la fatica a salire un pezzo, ad entrare nelle ballate. Non abbiamo la possibilità, emozionalmente, di capire la montagna. La montagna è infinita in confronto a noi, anche dal punto di vista tempo. Le dolomiti incominciano a nascere 600 milioni di anni fa sotto mare. È un fascino enorme. Però le dimensioni, 600 milioni di anni, come possiamo immaginare? Noi siamo niente in tempo e anche in spazio su questa terra. E dobbiamo accettare il fatto che noi siamo in realtà quelli che non hanno nessuna importanza nel grande mare del cambiamento del mondo. E anche manca l'esperienza. Non hanno l'esperienza che cosa può succedere. Può accadere un ghiacciaio in alta quota e poi viene giù l'acqua e il ghiaccio fino a dove c'è il sentiero o la mulattiera, dove non neanche sogni che può venire giù qualche cosa. Il fatto della mamolada, poche settimane fa, è venuto giù un lago, è venuto giù un mucchio di ghiaccio. E tutto questo con una velocità enorme che tirava via blocchi di roccia e ha ucciso parecchie persone. E se io vado in montagna, devo sempre pensare fino in cima. Che cosa può accadere? Che cosa può accadere? Che cosa devo fare per salvare la mia vita se viene un temporale a metà strada? Questo fa tutto parte dell'arte di andare in montagna. Andare in montagna non è soltanto un fatto sportivo, è un fatto di conoscere la natura e di sottomettersi. Noi non siamo i padroni del mondo. La natura non fa vedere che lei è il padrone del mondo, però è la natura che ci detta le regole. Io accetto la natura come dattrice di leggi. Certe leggi sono dentro me, certe leggi mi detta la natura. E queste leggi della natura rispetto col cuore. Le leggi fatte a Roma nel Parlamento rispetto soltanto col Ciavelo, perché eseguo le leggi per non avere problemi. Senta, noi siamo la generazione che sta affrontando la crisi climatica. Eppure nel nostro paese non esiste un movimento ambientalista forte, soprattutto nel Parlamento. Secondo lei perché? Perché il populismo, specialmente dopo il periodo Draghi, sta di nuovo andando sulla superficie. Il populismo è una forma di discussione politica, che alla fine porta soltanto guai. Il populismo non può mai funzionare per la gente, funziona per il partito, funziona per un politico. Per questo era bene che Draghi ha preso la responsabilità e lui aveva la credibilità nel mondo e anche la capacità di usare questi mezzi che l'Unione Europea ha messo a disposizione per l'Italia per riportare in salute economicamente parlando l'Italia, questo bellissimo paese che ha tutte le possibilità di essere uno dei paesi più forti del mondo, perché c'è tutto quello che serve per brillare in Italia. Non voglio dire altro, però noi adesso saremo in un'elezione dove nasce già nato il populismo, dove il populismo alla fine ci dà la direzione e noi abbiamo fatto i voti. Significa che chi è caduto dentro in questa trappola del populismo ha fatto in modo che il futuro sarà come sarà.